Il Lione sarà anche in crisi ma nelle prime partite delle nazionali che abbiamo visto ieri sono stati proprio tre giocatori lionesi ad aver segnato i gol decisivi con le loro nazionali. Iniziamo dalla Francia Under 21, ieri prima partita per Thierry Henry in panchina, affrontavano la Danimarca Under 21, il primo gol l'ha segnato Lepinon, che inizialmente non era nemmeno nella lista di Henry ed è stato poi chiamato a sostituire Belossian e secondo gol che lo segna Ryan Charky, il miglior prodotto uscito dall'Accademia Leonese negli ultimi anni. Ci spostiamo in un altro continente e la storia non cambia, chi ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Ghana di qualificarsi alla prossima Coppa d'Africa? Ernest Nuoma, nuovissimo attaccante del Lione.